Era già stato arrestato tre volte in soli tre mesi a Campo di Marte. Ieri per lui sono scattate le manette per la quarta volta, mentre si trovava sulla stessa panchina, anche in questo caso, con la droga. Si tratta di un 24enne del Mali, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane era arrivato in città da Bologna, dove aveva avviato un fiorente traffico di droga la scorsa estate, probabilmente attirato dalle piazze di spaccio lasciate libere dopo i numerosi arresti della squadra mobile nel corso della maxi-operazione Duomo Vecchio. Il 24enne era stato così ripetutamente colto in flagranza a Campo di Marte, dove, seduto su una panchina del Parco Mancini, anche in pieno giorno, spacciava hashish e marijuana. Per sfuggire controlli, nascondeva lo stupefacente e il denaro tra cespugli, facendo avanti e indietro dalla panchina, che era diventata ormai il suo posto fisso, di cui si era appropriato stabilmente e dalla quale gestiva i suoi traffici. Proprio lì, solamente una settimana fa, era stato arrestato l'ultima volta e nello stesso punto è stato rintracciato anche ieri dagli agenti delle volanti della questura di Arezzo, che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Arezzo. Il giovane era inoltre già destinatario di un'altra misura, quella del divieto di dimora nel territorio aretino, ripetutamente disattesa, per continuare a spacciare. Considerando la sua pericolosità, è stato necessario l'intervento di più pattuglie della squadra volanti per garantire la sicurezza dei poliziotti. Al momento della cattura, l'uomo era in possesso, per l'ennesima volta, di piccoli quantitativi di hashish, già suddivisi in dosi preconfezionate e di banconote di piccolo taglio. Il 24enne è stato trasferito nella casa circondariale Aretina in attesa dei processi a suo carico.